Decorazioni luminose, stelle e pianeti, così si trasformerà il centro storico castiglionese dal prossimo fine settimana. Un Natale spaziale con un allestimento tematico, con i pianeti che contorneranno Piazza del Comune e altre location dove poter anche creare degli spazi per foto e per selfie. Accanto a questo c'è un programma che partirà il primo dicembre e che in tutti i fini settimana sarà molto ricco. Iniziative sia all'esterno che all'interno con laboratori per bambini e famiglie. Iniziative che riguarderanno il teatro, alcune ambientali e naturalmente alcune manifestazioni che saranno tematiche quindi con una conoscenza, un approfondimento di quelli che sono i pianeti e lo spazio. Ovviamente a Castiglion Fiorentino non mancherà il presepe vivente, doppia data quest'anno, pre e post Natale. Sì, ci sarà come lo scorso anno una doppia data, una prima di Natale per favorire anche quello che è il mondo commerciale, le attività commerciali, quindi il 17 dicembre appuntamento a Castiglion Fiorentino così come il 26. E devo dire, non dimentichiamoci della partenza col botto con la fabbrica di cioccolato che dal primo al 3 dicembre sarà presente in Piazza del Comune. Il programma del Natale spaziale coinvolgerà anche i bambini con tematiche ambientali. Questo sarà in collaborazione con AISA, il progetto Zero Spreco. Sì, abbiamo voluto arricchire il programma del Natale anche con una tematica importante, quella appunto dell'ambiente dello zero spreco alimentare.